Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Vavassori Arianna, mi sono laureata all'Università dell'Insubria in chimica. Oggi sono referente tecnico in un'azienda che produce resine per vernici. La mia esperienza universitaria mi ha permesso di acquisire tutte le competenze necessarie allo sviluppo di un approccio scientifico, utile non solo in ambito di ricerca, in laboratorio, ma anche nel contatto con il cliente. Inoltre mi ha preparato al confronto, allo scambio, alla condivisione di idee, garantendo la crescita non solo della mia figura professionale, ma anche di quella personale.